che la forza sia con voi secondo me questa è una frase che in questi anni sentiremo molto spesso per quale motivo? a me è molto piacere avere queste notizie e darvi queste notizie è ufficiale che praticamente Electronic Arts e anche Respond Entertainment stanno lavorando alla bellezza di tre e dico tre giochi di Star Wars questa è praticamente una grande notizia perché per chi è amante un po' della serie per chi è un po' amante di personaggi serie lunghissime di Star Wars sono buone notizie ma andiamo con ordine cerchiamo di capire quali possono essere questi giochi visto che comunque titoli non ce ne sono però ci hanno detto di cosa si tratta vabbè il primo è facile perché obiettivamente già si sa che Respond Entertainment sta già lavorando da un bel po' al seguito di Star Wars Jedi Fallen Order 2 che dovrebbe uscire in teoria fine anno inizio anno 2022 2023 ve l'avevo già detto abbiamo già annunciato ne abbiamo già parlato e questa diciamo è la notizia quella che già si sapeva poi ci sono anche altre due notizie un FPS e uno strategico allora io per l'FPS avevo pensato a Battlefront 3 però non credo perché in questo momento si deve occupare ha già altri problemi e tra l'altro poi ha già annunciato che non realizzerà un nuovo Battlefront si dovranno dedicare molto di più a Battlefield 2042 che sta avendo parecchi problemi per cui non dovrebbe essere uno Star Wars Battlefront 2 dovrebbe essere un FPS diverso però lo stile forse potrebbe essere quello non lo so però il fatto che magari sia un FPS sicuramente mi fa molto più pensare a Battlefront 2 su quella caratura prezzo e poi lo strategico no lo strategico vi dico la verità magari per qualcuno potrebbe sembrare una una cacata tremenda perché diciamo che schifo lo strategico di Star Wars e no secondo me no è un nuovo team si chiama Bit Reaction mi pare di aver letto che si chiamasse Bit Reactor questo nuovo team che però ha già veterani che lavorano a questo nuovo team quindi è nuovo ma relativamente uno strategico su Star Wars ok sia sì si sa magari sono serie che su YouTube non vanno bene però magari per chi è amante della serie non mi ricordo sinceramente uno strategico Star Wars che la memoria non mi inganni però secondo me io sono un amante degli strategici per quanto cerchi di portarlo su YouTube ma hanno poco effetto però secondo me potrebbe essere una buona notizia se è fatto bene naturalmente perché mi rendo conto che sugli strategici bisogna lavorarci parecchio per non essere noiosi scrittemi sotto nei commenti cosa ne pensate soprattutto per lo strategico perché non sottovalutate lo strategico perché magari uno si butta più sugli altri sulla banalità mentre invece poi lo strategico potrebbe riscoprire state attenti ai giochi di Star Wars state molto attenti ricordatevi sempre il fatto di Star Wars Jedi Fallen Order ok mi rendo conto che erano quelli che hanno realizzato pure Titanfall quindi non erano cretini non erano era un buon team quella di respondentertainment però molti l'hanno sottovalutato magari non bisognerebbe forse neanche sottovalutare questo strategico grazie per la visione